Domenica 11 dicembre, buongiorno ben ritrovati al primo appuntamento con la nostra informazione, l'appuntamento con la rassegna stampa in regia Nicola Passarelli. Se non arriveranno risposte concrete, sarà un Natale drammatico per i lavoratori dello zuccherificio del Molise. Decisivi tre incontri in programma, ad inizio settimana in Prefettura, in Consiglio regionale e al Ministero. Intanto il presidio continua. Sentiamo Fabrizio Occhionero. Grande incertezza per il futuro dei lavoratori dello zuccherificio del Molise, ma anche tanta rabbia. Le risposte non arrivano. Il presidio dei dipendenti, che dura da diverse settimane, rischia di diventare una polveriera pronta ad esplodere. Sono tre gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni. Lunedì pomeriggio l'incontro in Prefettura, martedì mattina il Consiglio regionale e mercoledì pomeriggio la riunione al Ministero delle Politiche Agricole. I dipendenti vogliono chiarezza e sono stanchi di assistere ad annunci e promesse. Gli animi sono molto agitati per vari motivi. Ci sono più cose da mettere sul piatto. Nel senso che ci sono persone che comunque hanno finito le ferie e non sono stati pagati. Si è parlato sempre di un sostegno a reddito in questa fase di transizione che ci portava alla disoccupazione della Naspi. Lì ci sono anche dei punti interrogativi ancora da delucidare. Per quanto riguarda questa situazione, nel senso che le persone comunque sono rimaste senza reddito. Si prospetta un Natale tragico per loro perché non hanno più reddito e quindi le ferie non riescono a coprire l'intero mese. Quindi non hanno nessun modo di percepire lo stipendio. Gli impegni assunti dalla Regione? Gli impegni assunti dalla Regione per adesso sono stati proclamati tante cose da mettere sul piatto ma effettivamente di concreto noi ancora non vediamo niente. Quindi la nostra protesta adesso è quella di cercare di mettere sul piatto qualcosa di concreto dove trovare delle soluzioni congrue per tutti quanti i dipendenti e trovare delle soluzioni anche alternative. L'importante è trovare il lavoro per noi sinceramente. Quindi quello che loro ci hanno prospettato fino adesso sono solo politiche attive che alla fine a noi non ci interessano. Ci interessano relativamente che può essere un periodo di transizione che sia breve perché poi a noi ci interessa lavorare. Un Open Day per illustrare nel dettaglio l'offerta formativa di quattro differenti realtà raccolte sotto un'unica presidenza. Nella mattinata di oggi si presentano a studenti e famiglie Elitas Pertini di Campobasso con i suoi indirizzi linguistico e biotecnologie per l'ambiente e sanitarie nelle sedi di via Principi di Piemonte e via Scardocchia. Porte aperte anche all'IPia Montini di via San Giovanni al cuoco di Corso Bucci con le tre aree formative e servizi commerciali, sociosanitari e odonto tecnico. A Bagnoli del Trigno è stato allestito il presepe artistico più grande del Molise. Le realizzazioni occupano infatti 300 metri quadri di spazio impiegati oltre 2 chilometri di carta roccia. Vediamo. Tutto è curato nei minimi dettagli. Ogni pezzo, anche il più piccolo, è stato realizzato a mano. Ogni stanza propone qualcosa di diverso. Si va dai lavori artigianali tipici dei borghi altomolisani agli scenari che proiettano il visitatore nella Betlemme di due millenni fa. Si viaggia con la fantasia tra vere cascate, laghi e pescatori, terreni coltivati e altre suggestive vedute panoramiche. A impreziosire l'allestimento, la presenza degli animali, pecore, caprette e colombi, danno un tocco di realismo in più a quello che può essere considerato a pieno titolo il presepe artistico più grande del Molise. Dietro questa opera ci sono mesi di lavoro e l'impegno di un gruppo di volontari, giovani e meno giovani, in prima linea con passione ed entusiasmo per dare una bella immagine di Bagnoli del Trigno. I numeri della mostra del presepe alla sua sesta edizione sono da record. Innanzitutto il record delle dimensioni. È il presepe artistico più grande del Molise, ha raggiunto i 300 metri quadri di realizzazione. Si parla di numeri di realizzativi quasi assurdi, oltre quattro mesi di preparativi, due chilometri di carta roccia, animaletti vivi presenti nel presepe, quindi un grosso lavoro non solo per allestire ma anche per mantenere durante l'apertura il tutto in ottima funzione perché comunque gli animali necessitano di vari accorgimenti. E soprattutto una collaborazione fatta di accoglienza, cioè si cerca di invogliare tutti a fare qualcosa per il paese, partendo dal bambino più piccolo che ha otto anni per arrivare al collaboratore più anziano che ce n'ha oltre 80. Il presepe ha già attirato un buon numero di curiosi. Tra i visitatori è anche un gruppo di turisti proveniente da Roma, al quale è stata riservata un'accoglienza speciale. Prima della visita al presepe artistico è stato messo in scena quello vivente, a riscaldare l'atmosfera, il fuoco e il crepitio delle indocce bagnolesi. Ho sentito molto entusiasti di questa iniziativa, sia per l'iniziativa natalizia e proprio per l'organizzazione, l'inventiva, la fantasia e la voglia di questi ragazzi di mantenere vive queste nostre tradizioni. Sono circa tre anni che mi sto impegnando a portare gruppi a Bagnoli, a visitare nel Molise, non solo a Bagnoli ma anche a visitare Agnone, Castelpetroso, Sepino, insomma tante località che abbiamo di grande ricchezza e di grande cultura. Rinviata domenica prossima, 18 dicembre, la festa del torrone di Santo Stefano che era in programma per oggi, un improvviso lutto nella piccola comunità ha indotto gli organizzatori a posticipare l'evento che tornerà dunque a svolgersi tra sette giorni, sempre nella frazione di Santo Stefano a Campobasso. Ed ora spazio alla rassegna stampa. E come sempre la nostra rassegna stampa si apre con il giornale del molise.it in apertura parliamo di sanità, allarme della cattolica con i tali decisi dalla regione. Rischiamo di chiudere i battenti, questo l'articolo di apertura. Le altre notizie, Campobasso, bimbo prelevato a forza in ospedale, fermata donna in fuga, proseguono le indagini. Civitanova del Sannio, viadotto gamberale, il cemento cade a pezzi, ferri dei pilastri scoperti. Poi a Termoli ci sono le riflessioni di Nicola Felice e dice Termoli cambia verso. E poi ancora a Termoli ci sono problemi nelle aule della scuola artistico. Gli studenti sono in sciopero, problemi che riguardano il riscaldamento. E poi ancora altre notizie dal Molise. Come sempre abbiamo poi la sezione dedicata a editoriali, idee e opinioni. con questo articolo, questa riflessione del direttore Emanuela Petescia. Bambini, una legge speciale per Natale. Poi le altre notizie, come sempre, dall'Italia e dal mondo. Passiamo adesso all'informazione sui quotidiani in cartaceo. Eccolo qui. Apriamo con primo piano Molise. L'apertura è dedicata alla sanità. Sanità, frattura, sfida, la cattolica. Vogliono andare via? Facciano come credono. Il commissario respinge le accuse di persecuzione. Le regole sono uguali per tutti, dice Tagli. Erano noti da dicembre 2015. Domani l'assemblea a Campobasso. Spiegherò ancora una volta che nessuno può sottrarsi ai sacrifici, dice Frattura. In alto Termoli, donna scippata tra i banchi della chiesa. E ancora sempre da, parliamo invece di Campobasso. Sfratto per il liceo artistico. Bufera su Battista. Poi abbiamo una notizia su Campobasso che abbiamo trovato anche sull'online nel giornaledelmolise.it. Da Campobasso, bimbo ivoriano rapito al Cardarelli. Ne guai pure la presunta zia. Scendiamo ancora. Centropagino, furto a Boiano. Ubriaco si schianta con l'auto rubata. Arrestato Iserni insieme al complice. Di spalla, un monumento a Tonino Molinari. Il sindaco tolga il disturbo. E poi abbiamo, di taglio basso, le notizie che riguardano lo sport. Il Campobasso, Serie D, il Campobasso riceve l'Olimpia Agnonese. A Selva Piana derby senza tifosi. E poi eccellenze. Iserni a nuovo pari a Campobasso. Sesti a reti bianche. Gambatesa esce indenne da Alife. Calcio a 5. La stracittadina parla a favore del Cursa. Iserni alla sfida tra Big di Barletta. Venafro al tappeto. Pallavolo per l'Europea 92. La vita facile contro la Volley Group. Roma finisce 3-1 per le Pentre. E infine parla a canestro. Danaimica Giulianova per cancellare l'unico zero di tutta la Serie B. Il Globo a Monteroni. Passiamo adesso al quotidiano del Molise. Eccola qui l'apertura. L'apertura è diversa rispetto a primo piano. E allora. Centri per l'impiego. La svolta è vicina. Il Presidente Battista, il Presidente della provincia, lavora in queste ore per definire domani la transazione. Aspetti legislativi e penali legati all'interpretazione del testo unico sul lavoro pubblico. hanno rallentato l'iter, dice il quotidiano. Le altre notizie. Regione, riforma elettorale, maggioranza in conclave. E poi ancora. Extra comunitari che fanno imprese in Molise. Al primo posto i marocchini dati del centro studi della Camera di Commercio. Poi c'è una notizia. Isernia, carabinieri sugli scudi contro pusci e rapinatori. Ancora cronaca. Rubano auto a Boiano, si schiantano ad Isernia. Campobasso, scuole, lira dei docenti del Manzù. Contrarie al trasferimento in Via Roma. Parliamo sempre di scuole, ma ci spostiamo a Termoli. Aule, Algelo, si fa lezione con sciarpe e cappotti. E poi di taglio basso c'è lo sport. Serie D, Campobasso, Agnone. Il rosso-blu con tre rinforzi. Preso anche l'attaccante Martiniello. Invece per quanto riguarda Agnone, Granata senza tifosi. A Selvapiana lanciano Margarita. Eccellenza, il Campobasso 19-19 ferma Isernia sul pareggio. Il sesto delude in casa. Calcio a 5 serie B. Il Cus Molise mette le mani sul derby. Isernia 4-2 a Barletta. Andiamo avanti con l'informazione regionale. Eccola qui. Andiamo alla Gazzetta Molisana. Vediamo l'apertura. Qui c'è una grande foto, come al solito. Battista è il pasticciaccio delle scuole. Ecco qui il titolo a tutta pagina. Doppi turni e situazioni in sospeso. I docenti e i ragazzi di liceo Manzù scrivono al sindaco di Campobasso perché ci fa esloggiare. Questo è l'interrogativo. Poi l'Oscar del giorno vaggino di Rienzo, direttore dell'ACEM. Il tapiro invece a Lorenzo Coglia che è il presidente della provincia di Campobasso, di Taglio Basso. Si parla anche della cattolica Tagli e Tagli e noi siamo costretti a chiudere. Restiamo sempre sull'informazione telematica. Passiamo a futuro Molise, il quotidiano telematico online. Isernia, arresto di due rapinatori e pusher. Premiati i carabinieri dal comandante della legione Abruzzo e Molise. Poi settantesimo anniversario del fuoto alle donne. La prefettura di Isernia a celebrare la ricorrenza. Eccellenze molisane Enzo Iacovino, l'avvocato che fa tremare la RAI e non solo sul jobs posting. Fondazione Giovanni Paolo II, tagli, tagli e solo tagli. Programmazione o accanimento oppure entrambi? E poi altre notizie. Isernia, l'auditorium Unità d'Italia ospiterà Antonio 4SMA, l'iniziativa di beneficenza voluta e realizzata dalla famiglia di Rollo. Si parla ancora di tagli alla cattolica. Il Movimento Cittadini per la Sanità di Qualità esprime profonda preoccupazione. Frattura, dicono, revochi il provvedimento. E dalla stampa locale passiamo a quella nazionale. I quotidiani nazionali in edicola oggi. E partiamo subito dal Corriere della Sera. Questa è l'apertura stretta sull'incarico. Pronto Gentiloni. Mattarella, ora un governo con pieni poteri. Renzi ha ridato le chiavi della casa di Palazzo Chigi. La crisi, i Dem non fanno nomi al colle. Berlusconi, dialogo sulle norme elettorali. Il Movimento 5 Stelle in piazza, se si allungano i tempi. Le altre notizie. Fughe di notizie sul Monte Paschi, inchiesta della BCE. Venerdì il crollo in borsa. E poi c'è una notizia di cronaca. Bomba Istanbul, 15 morti. Esplosione davanti allo stadio. Dal Corriere della Sera passiamo alla Repubblica. Questa è l'apertura. Ormai l'apertura è uguale per tutti i quotidiani nazionali. Quest'oggi Mattarella, governo in tempi brevi. Oggi Gentiloni verso l'incarico. Il capo dello Stato al termine delle consultazioni. Prima del voto, armonizzare le leggi elettorali. Anche qui c'è una fotonotizia. L'esplosione vicino allo stadio. Autobomba nel centro di Istanbul. Almeno 15 morti. Attacco terroristico. E poi abbiamo qualche altra curiosità. Patty Smith piange per Dylan. Santos Nobel per la pace. Ora una guerra in meno. Passiamo adesso alla stampa. Eccola qui. L'apertura. Anche qui conto alla rovescia per Gentiloni. Dice il quotidiano di Torino. Il PD sale al colle senza un candidato. Berlusconi ora governino loro. Movimento 5 Stelle minaccia le dimissioni di massa. Mattarella. In carico presto. Totonomine. Restano boschi e lotti. Entrano Guerini e Pera. E poi qui c'è un articolo che dice il Premier lascia un'eredità su cui costruire. Questo è un editoriale da leggere all'interno. E anche qui c'è una grande foto notizia. La bomba di Kim fa paura a Tokyo. Può colpirci. Le lacrime di Patty Smith per Dylan. Il Nobel che è stato attribuito. Chiudiamo anche la stampa. Andiamo avanti con il tempo di Roma. Eccolo. L'apertura è dedicato sempre alla politica. Il voto dopo l'estate vale 20 milioni. Con le elezioni 591 tra deputati e senatori eletti nel 2013 perderebbero contributi versati e vitalizi. Andando alle urne prima del 15 settembre 2017 il Parlamento si terrebbe il tesoretto dei politici. E poi invece al centro c'è una grande foto notizia. La Lazio rialza la testa. 2 a 1 alla stampa a Genova. Genova ha dimenticato il derby. Poi c'è questa foto che riguarda Papa Francesco. Resterò Papa per poco tempo. La confessione. Di Francesco. Chiudiamo il tempo. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Il mattino di Napoli. Eccolo qui. L'apertura è la stessa. Il giorno di Gentiloni. Premier. Mattarella. Subito un governo con pieni poteri. Prima del voto. Armonizzare le leggi elettorali. Chiuse le consultazioni. Forse già oggi il conferimento dell'incarico. Pressing dei piccoli partiti per entrare nell'esecutivo. Qui c'è anche una foto che riguarda Napoli. Nalbero. L'assalto del popolo dei selfie. Il reportage. Napoli aperta alla megastruttura sul lungomare con 10.000 visitatori. Chiudiamo anche il mattino di Napoli. Andiamo al fatto quotidiano. Ecco qui. con un grande titolo. Tutta pagina in evidenza. Eccolo qui. Il riecco. Lorenzi si fa le sue consultazioni. A gire il colle. E rivolge la Boschi. Altro che addio. Dice il fatto quotidiano. Solo in serata. L'ex premier. Indica Gentiloni. A Mattarella. Poi c'è qui un'altra notizia che riguarda purtroppo una storia. Una brutta storia. Io violentata a 15 anni dal boss. Lui ci spara e nessuno fa nulla. La storia. Stavo con lui soltanto per paura. Che ammazzasse mio padre. Dice la donna. Chiudiamo il fatto quotidiano. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Andiamo al messaggero. Anche qui l'apertura è dedicata alla politica. Il giorno. Governo il giorno di Gentiloni. Oggi l'incarico dopo la telefonata con Renzi. Esecutivo con pieni poteri. In sella già martedì. Mattarella. Prima del voto bisogna armonizzare le due leggi elettorali di Camera e Senato. Vediamo le altre notizie. Per quanto riguarda invece l'allarme inquinamento. Smog alle stelle. Mezza Italia a piedi. Scatta il blocco dei veicoli inquinanti. Allarme anche in Francia. Andiamo al manifesto. Tutta pagina. La foto di Gentiloni. Eccolo qui. Secondo Matteo. A breve un esecutivo nella pienezza delle sue funzioni. E poi una legge elettorale condivisa. Mattarella chiude le consultazioni senza mettere una data di scadenza alla legislatura Renzi. E poi abbiamo notizie dall'estero. Raul e Obama. Corsa contro Trump. Cuba usa. Si prova a chiudere l'accordo prima del 20 di gennaio. Le altre notizie. Andiamo sul Libero. Eccola qui l'apertura. Di votare non se ne parla. Dice Libero. Il Premier designato è Gentiloni. Ma nessuno fa il suo nome al Quirinale. Sarà un governo debole. Però durerà. Il PD ha spostato la resa dei conti al congresso e il Colle chiede una legge elettorale condivisa su cui tutti litigano. Salterà come ministro alle riforme ma, dice il Libero, di sana e robusta Costituzione, la Boschi prova a resistere. Chiudiamo anche Libero. Andiamo alla prima pagina di Avvenire. Il quotidiano dei Vescovi. Eccolo qui. L'apertura in breve. Forse breve. Mattarella. Governo subito. Serve una legge elettorale. L'ultimo tentativo. Correnzi. Gentiloni. Finite le consultazioni. Previsti pochi cambi nella squadra dei ministri. Tutti i partiti spingono per il voto in tempi rapidi. Sfida nel PD. E poi c'è una notizia che arriva dall'estero. La CIA c'è Mosca tra chi ha spinto Trump al successo. Dalla Casa Bianca pronta. Un'altra nomina controversa. Chiudiamo anche l'Avvenire. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Il secolo d'Italia. Questa è l'apertura. Il secolo d'Italia dice nessun inciucio. Un titolo così come sempre secco. E poi abbiamo le altre notizie in primo piano. Addio a Maria Etruria. E' sparita. Scaricata dal PD. Poi notizie dall'estero. Nuovo fango su Trump. Lui replica. Sicuro. Balle. E infine troppo alcol fa male. Riduce la materia grigia. Questo è quanto sostiene il secolo d'Italia. E gli esperti. Andiamo alla verità. Dite no al Renzi Bis. Dice la verità. E al Renzi mascherato. Il premier insiste. A Palazzo Chigi. Lui o Gentiloni con suo fedelissimo. I lettori ci aiutino. Dice il quotidiano con le loro firme. A convincere Mattarella. A fermarle. E poi ancora. Sorpresa. La media cancella la trasparenza. La riforma abolisce una serie di obblighi. Della pubblica amministrazione. Nei confronti dei cittadini. Ecco qui. Adesso andiamo al quotidiano economico. Il sole 24 ore. Questa è l'apertura. MPS in salita. Il piano GP Morgan. La BCE indaga sulla fuga di notizie. Verifiche in corso sulle indiscrezioni per il nuova proroga di 20 giorni. Il CDA del Monte valuta oggi il tentativo per il momento di mercato. Anche qui di spalla c'è la notizia che riguarda la politica. Mattarella. Governo con pieni poteri. Atteso oggi l'incarico di Gentiloni. Chiudiamo anche il quotidiano economico. Il sole 24 ore. Siamo all'informazione sportiva alla Gazzetta Sportiva. Eccola qui. L'attenzione è puntata sul derby. Derbone, dice la Gazzetta Sportiva. Alle 15 Torino Juve. La posta in palio è altissima. Bianconeri in Vetta. Granata puntano l'Europa. Due bomber da quasi 200 milioni come Belotti e Higuain. Due tecnici che ringhiano. Una città che freme. E noi giochiamo il derby per voi, dice la Gazzetta Sportiva. Bene, con l'informazione sportiva si chiude la nostra rassegna stampa. Grazie come sempre per essere stati con noi. Vi ricordo che l'informazione di Telemolise torna alle 14 con il nostro telegiornale. A più tardi.